Un intero mese dedicato alla prevenzione cardiologica. L'iniziativa è promossa dalle farmacie comunali di Arezzo che da sabato 21 settembre a lunedì 21 ottobre condurranno una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini sulle corrette pratiche per mantenere il benessere del cuore e ridurre i fattori di rischio. Il Mese del Benessere Cardiologico abbraccia idealmente i temi della giornata mondiale del cuore del prossimo 29 settembre e va a collocarsi in un momento dell'anno particolarmente delicato a causa della dipartenza delle diverse attività sportive, lavorative e scolastiche. La volontà è dunque di generare consapevolezza sulle piccole accortezze quotidiane necessarie per restare in salute, per preparare il corpo all'arrivo della nuova stagione e per scongiurare i rischi collegati all'emergere di eventuali patologie cardiache. Il personale delle otto farmacie comunali di città e frazioni sarà così a disposizione dei cittadini per eventuali consulenze gratuite e personalizzate per la cura di sé. Il corretto stile di vita deve essere però sostenuto anche da un programma di prevenzione secondaria tra test e screening da svolgere periodicamente per tenere sotto controllo il corpo e per anticipare eventuali problematiche.